Come racconterebbe 50 anni di WWF oggi? Racconterei con 50 anni di sfide, di vittorie e anche di sconfitte che però hanno portato questa associazione a diventare la più grande associazione ambientalista d'Italia e a creare un patrimonio importante, per esempio di Osi, oggi sono più di 100 e coprono 35.000 ettari che vuol dire un parco nazionale diffuso dalle Alpi fino alla Sicilia più tante altre battaglie che abbiamo fatto, vinte, alcune, alcune perse però continuiamo a combatterci sempre con la grande costanza, energia specialmente con l'aiuto di tanti soci e di persone di buona volontà che ci danno una mano. Qual è una battaglia che non pensava davvero di vincere? Mai, penso quella, forse quella della prima Osi. In prima Osi, il 1966, propose al Consiglio Direttivo appena nominato di prendere in affitto un lago in Maremma dove ogni anno si abbassavano 6-7.000 uccelli acquatici e costava affittarlo 4 milioni di allora. Io proposi al Consiglio di essere un accordo di finalmente dare un avvio a un tipo di protezione diversa da quella che finora c'era stata di proteste, marce ed altro. Oggi invece qual è la sfida più grande? La sfida più grande è di cambiare questo pianeta, stiamo cercando finalmente di arrestare un degrado che dappertutto ci sta assillando e purtroppo i dati che ci vengono, anche nonostante tutte le riunioni e conferenze internazionali che si fanno, non vediamo un segnale di miglioramento dell'atmosfera soprattutto, ma del scioglimento dei ghiacci. Noi stiamo combattendo come dei pazzi per salvare i ghiacci del nord Europa, per salvare un animale prezioso come l'orso polare che è altrimenti un simbolo dell'Artico.